No, tutti da un lato però. Tutti da un lato in modo che vi si vede. Tutti da un lato, di lato. Magari salutate. Se no vi prendete una schiena. Dite hello rabbits. Go on, provate. Provate a dire in inglese? Hello rabbits. Allora, ho detto non tutti insieme. Se no si spaventano e se ne vanno. Allora non capite. Uno per voi. Vieni. Giulia. Occhini questi, va. Uno alla volta. Se sta accarezzando uno non deve andarci l'altro. Tutti insieme, Dario. Tutti insieme, Dario. Ok, grazie.